Al centro sportivo Montemoro di Empoli va in scena Empoli-Atalanta, ultima giornata del campionato primavera 1 team trofeo Giacinto Facchetti. Campionato già vinto dall'Atalanta che da una giornata è sicura del primato e ospite di un Empoli agguerrito che invece insegue la salvezza. Nesce una partita spettacolare ricca di gol, il primo già al quattordicesimo del primo tempo porta la firma di Ricci che con un destro da fuori aria porta in vantaggio l'Empoli. La botta potente del numero 4 sorprende in diaio ma l'Atalanta come spesso accaduto in questo campionato reagisce subito e pareggia dopo soli 6 minuti. Doppia respinta di Saro prima su Tabi poi su Jaboa e infine è lo stesso Jaboa che insacca l'ultimo tappin. Empoli 1, Atalanta 1 al ventiduesimo. E 1-1 è anche il risultato finale di un bel primo tempo nella ripresa però esce tutta la qualità dell'Atalanta che vuole vincere questa partita. E al diciassettesimo dal secondo tempo arriva il gol di Traore controllo in area di rigore pallone sul secondo palo nell'angolino. E' il sesto gol stagionale per Livoriano e il 2-1 Atalantino. Nerazzurri che completano così la rimonta e mantengono il vantaggio fino al termine del match, vantaggio che aumenta due minuti più tardi grazie a Tabi che si presenta 1 contro 1 con Saro e con un dolce pallonetto insacca il 3-1. Il balletto di Tabi che trova anche la seconda gioia personale al 43esimo della ripresa quando piazza con il destro nell'angolino. Terzo gol in campionato per il centrocampista arrivato a gennaio. Prima della fine della partita c'è tempo anche per il 2-4 dell'Empoli. E' un autogol sfortunato di Zortea. Il cross dalla destra carambola sulla testa del numero 2. Non può nulla andiaie. Nonostante la sconfitta l'Empoli si giocherà la salvezza ai play-out complice il pareggio del Milan che retrocede direttamente in primavera 2 l'Atalanta. Invece chiude il proprio campionato con la ventunesima vittoria. 77 gol fatti, secondo migliore attacco, 37 gol subiti, seconda migliore difesa. Primo posto in classifica, più 11 sull'Inter. E ora, fasi finali.